Ci siamo? Dove è la vostra responsabile della musica? Eccola, siamo qua. Allora, dove ero rimasto? Ero rimasto a dirvi che ci sono i ragazzi dell'Evergreen. Quindi, prendete posto, intanto pregherei il pubblico di avvicinarsi un po', verso il centro, verso l'altro. D'accordo? Ci siamo? Ci sono tutti i gringhi Leonardo Sciascia di Borgoliva. Borgoliva, presentano uno show sulla marina militare. Ecco a voi, Yemmer Green. Applauso, grazie grosso. Andiamo. Applauso, grazie grosso. Grazie. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.